Lunedì 2 marzo vengono aperti gli archivi vaticani sulle pontificato di Pio XII e migliaia di documenti saranno a disposizione di storici e studiosi. Le prenotazioni dei ricercatori si moltiplicano ed è già tutto pieno fino a giugno, considerato che ogni giorno potrà accedere in archivio un numero contingentato di studiosi. Grandissimo è l'interesse di tutto il mondo anche per verificare che cosa realmente accadde tra le mura della Santa Sede durante il periodo fascista e nazista. I quasi vent'anni delle pontificato di Eugenio Pacelli, complessi e drammatici, abbracciano infatti la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, la contrapposizione dei blocchi occidentale e orientale. L'importanza dell'apertura consiste nella possibilità offerta agli studiosi, sottolineano dall'archivio apostolico vaticano, di accedere a tutte le fonti studiando questi e altri problemi da un punto di vista che sinora non era possibile. In archivio vaticano saranno consultabili per quanto riguarda il pontificato di Pacelli, 73 archivi di rappresentanze pontifice, 15 serie della segreteria di Stato, 21 fondi di congregazioni romane, di uffici curiali e palatini, 3 dello Stato della città del Vaticano e altri 8 fondi.